Musica Oggi abbiamo un evento un po' diverso dai miei classici Juke Unplugged e si chiama Users Unplugged L'idea viene dallo scorso novembre quando abbiamo fatto un evento con il VMAG dove abbiamo invitato degli utenti a parlare La cosa è stata molto interessante, è stata molto partecipata quindi ho provato a ripetere questa cosa anche oggi L'idea parte da lì appunto ma ovviamente è sempre un seminario Juku per cui io sono quel signore lassù mentre varava la sua barca barca che ho costruito io quindi senza giocare in terza persona e di cui vado molto fiero ho comprato il legno quindi sono partito proprio da zero lavoro come advisor con aziende in Italia e all'estero e con alcune start up più di vent'anni che faccio questo mestiere che sono all'IT ho cominciato con l'Assembler e appunto sono velista e autocostruttore velista purtroppo della domenica sono sempre più a lavorare sulla barca che a uscirci ma fa parte del gioco mi trovate ovviamente su juku.it se siete qua è perché lo sapete già se no è difficile che mi trovate trovate questo evento in un altro modo e il mio twitterendole e signoretti e oggi dobbiamo ringraziare per la giornata i nostri sponsor che sono HP e Intel il HP ovviamente soprattutto lato storage oggi è qui con noi per raccontarci anche un paio di cose sul loro prodotto Tripar che è uno dei leader in questo momento nel mondo dell'olf flash e quello che volevo è una slide questa che uso tutte le volte per dire mi raccomando siamo qui per condividere oggi in particolare quindi sono gli utenti che devono anche confrontarsi avremo un'agenda un po' particolare scusate avremo un'agenda un po' particolare dove i miei interventi si mischieranno con quelli degli utenti finali ok? per cui mi raccomando alzate la mano fateci che le sessioni siano interessate abbiamo un microfono qua per chi vuole intervenire abbiamo deciso anche di utilizzare questo format quindi come vedete siamo allo stesso livello i banchetti un po' più alti servono proprio perché quelli dell'ultima fila possono vederci in faccia ma è l'unico motivo per cui c'è uno sgabello più alto altrimenti si poteva fare con le sedie allo stesso livello nel caso qualcuno usasse twitter o facebook l'hashtag è juku 2015 e come dicevo l'agenda è abbastanza semplice inizia adesso con questa attività di presentazione continueremo subito dopo a parlare di flash memory che è una delle tecnologie più interessanti nel mondo dell'infrastruttura in questo momento ovviamente diverse cose che verranno dette nelle mie presentazioni non fanno parte solo della parte storage solo di flash memory ma diciamo che siccome è uno degli elementi più sentiti in questo momento in tutta la parte dell'infrastruttura oggi ne parleremo abbastanza avremo queste due interviste con utenti sono due utenti che hanno cambiato diverse cose nella loro infrastruttura negli ultimi anni e in particolare hanno adottato la memoria flash con tutti i vantaggi che questo ne porta avremo Giunti Editore e poi avremo la Banca Popolare di Sondrio che fra l'altro Banca Popolare di Sondrio che proprio pochi giorni fa era qui a Milano in un data center ad aggiornare tutta la parte di Just Recovery con alcune di queste macchine che supportano la memoria flash alla fine della mattinata avremo una presentazione di HP e poi un open panel praticamente una volta che abbiamo visto le presentazioni parlato avremo un momento ancora più un momento per confrontarci su quello che abbiamo visto quali sono le nostre opinioni eccetera tutta la mattinata viene registrata per cui se poi volete rivedere quello che abbiamo fatto sarà disponibile su Youtube entro pochi giorni dico entro pochi giorni perché molto dipende da quando verranno montati i video e alla fine ci lasceremo dopo il pranzo e dopo il caffè dicevamo memoria flash memoria flash ovviamente perché va veloce il mercato sta vedendo un'evoluzione abbastanza radicale di come l'infrastruttura storage si sta evolvendo da una parte abbiamo la memoria flash che ci dà tantissime performance ci dà una latenza molto più bassa quindi ogni operazione viene fatta più velocemente quindi non è solo la quantità di operazioni ma è la qualità delle operazioni che viene migliorata ma dall'altro ancora oggi la memoria flash per quanto i fornitori ne dicano è molto costosa è molto più costosa rispetto al disco meccanico e rispetto al tape ok e in alcuni casi anche al cloud per cui esiste un'altra cosa che sta succedendo e infatti io dico sempre flash and trash proprio perché noi stiamo accumulando un sacco di dati molti di questi sono immondizia realmente immondizia cioè sono cose che non useremo mai più che non sappiamo cosa farci non sappiamo neanche come andarci a scavare in questi dati anche se stanno succedendo delle cose per cui presto riusciremo a scavarci alcuni chiamano questa pila di dati data lake ok si stanno costruendo i data lake certo non tutti ok se io ho una piccola azienda molto piccola e ho pochi terabyte ogni santo aiuta cioè non è che ho bisogno di flash and trash ok probabilmente un piccolo sistema ibrido è più che sufficiente ma più le richieste aumentano e più questa questa architettura a due tier a due livelli diventa più più interessante esistono nuove esigenze sul mercato nuove esigenze che sono date da ovviamente un controllo dei costi ok quindi devo rivedere i processi devo rivedere le automazioni devono rivedere una serie di cose che prima facevo in automatico molte aziende stanno vivendo una crescita del numero dei servizi e del numero della qualità e della quantità di accessi che è mostruosamente elevata e molto di questo è dato dal cloud cioè mentre una volta noi avevamo pochi utenti collegati a dei terminali o comunque a dei pc ma anche all'interfaccia web che accedevano ad un server oggi abbiamo centinaia migliaia in alcuni casi milioni di connessioni contemporanee generate da device diversi e ancora non parlo neanche di internet of things parlo di device mobili ok solo io viaggio con almeno due device connessi tutto il tempo un pc e un è un è un è un phablet sì chiamiamolo un telefono ok il problema è che io non sono neanche così tanto connesso se vado solo a vedere la casa mia dove i miei figli hanno un pc e un tablet a testa e l'altra mattina vedevo mio figlio che stava guardando un video su youtube con un tutorial su minecraft e stava programmando a 10 anni programmava dei blocchi su minecraft per fare delle azioni quindi questo giovincello aveva youtube aveva minecraft aveva aperto un paio di applicazioni io facevo fatica io pensiamo che quello è un utente a casa mia ne ho due di questi tipi di utenti l'altro ancora è piccolo però si sta industriando anche lui ho mia moglie che ha il suo ipad che sembrava che non dovesse usare mai un device invece è attaccato sempre lì quindi alla fine solo a casa mia abbiamo 5-6 computer accesi contemporaneamente che nel nostro caso fra streaming eccetera accedono a diverse applicazioni contemporaneamente quindi i workload sono cambiati mostruosamente il modo che abbiamo di accedere all'informazione è cambiato mostruosamente e le vogliamo tutte le vogliamo subito non è finita il il business si chiede di più e ci chiede di più attraverso l'intelligenza che dovremmo trovare sulle nostre infrastrutture non siamo pronti ma molto di quello che si fa e di quello che si dice sugli analytics quindi cosa posso verificare all'interno dei miei dati cosa posso cercare all'interno dei miei dati è un problema sempre più più importante la riusabilità delle informazioni quante volte voi create dei file che non riusate più soprattutto in aziende molto grandi ok quello che crea una persona potenzialmente lo possono utilizzare degli altri ad esempio io ho uffici sparsi in tutto il mondo con progetti che magari sono simili tutti questi uffici in tutto il mondo oggi come oggi riproducono lo stesso progetto tante volte se io avessi un sistema di ricerca fra tutti i miei dati google like faccio per dire io potrei cercare i dati molto di più vi porto un esempio è successo ad un evento che avevo fatto a Londra qualche mese fa e un utente finale ha detto noi abbiamo messo un sistema di ricerca nei nostri dati se prima era vero che la maggior parte dei dati erano fermi quindi noi avevamo 10-20% dei dati in movimento e il resto era veramente fermo da quando abbiamo messo la ricerca abbiamo scoperto che gli utenti usano molto di più i dati che noi pensavamo fermi li riusano perché sanno che esistono vengono fuori a volte è un danno nel senso che cercano verificano non c'è niente per cui sono accessi e devono provvedere a uno storage più veloce di quello in passato anche se in realtà quindi la ricerca non è efficiente ok però a volte li riusano quindi lo storage è diventato da un costo si è trasformato in un asset e un'altra cosa di cui abbiamo bisogno con l'aumentare delle risorse in gioco l'automazione diventa fondamentale cioè se qualche anno fa gestivamo 100 macchine virtuali oggi dobbiamo essere in grado con gli strumenti che ci sono a disposizione di gestire 1000 la stessa persona deve gestire invece di 100 terabyte un petabyte questo ovviamente si può fare solo se lo storage solo se l'infrastruttura sopra di quello ha gli strumenti per poterlo fare ok mentre in passato si parlava molto di integrazione oggi si inizia a parlare di storage intelligenti che quando ricevono i dati analizzano i dati e fanno delle operazioni sui dati ci sono dei trigger che dicono ah questo ho appena ricevuto un video e a 4000 linee non serve traduciamolo direttamente a 1080p oppure facciamo una copia a 1080p perché in azienda si usa il 1080p è un esempio ovviamente esistono 1000 esempi come questo che danno la possibilità di automatizzare una serie di cose di rendere i dati più fruibili e utilizzabili quindi sta cambiando tutto quanto e ovviamente questa è una slide che uso anche questo molto spesso perché mi piace molto sta tartaluga se io prendo un'infrastruttura tradizionale e cerco di farla andare veloce accrocchiandola non funziona non ha mai funzionato e ancora di più non funziona adesso per cui avete visto negli anni passati la maggior parte la maggior parte dei vendor aggiungere ad esempio la memoria flash a un sistema tradizionale questo si andava un po' più veloce ma il rapporto fra il costo di questo sistema aggiungendo questo nuovo media magari e il costo di un sistema studiato per quel nuovo media sono diametramenti opposti sia come costo ma anche come performance che riescono a tirar fuori per cui non vanno bene le infrastrutture tradizionali rispetto ai workload che stiamo vedendo oggi e tutto questo ovviamente crea disperazione ok nel senso che se non si sa che pesce pigliare si arriva la sera e dire non ce la possiamo fare